Un ragazzo di 19 anni incensurato e un giovane boss della Camorra sono le ultime due vittime della sanguinosa faida che si sta consumando a Napoli dall'inizio dell'anno. 35 morte di Camorra fino ad ora, nonostante in città, sia presente l'esercito inviato dal Viminale per aiutare polizie e carabinieri nel controllo del territorio. A cadere sotto i colpi dei sicari, Raffaele Cepparulo, 25 anni, capo della cosca del centro storico di Napoli, chiamata dei barbutos per l'abitudine del gruppo di portare barbe alla maniera islamica, è stato ucciso in un agguato ieri nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale della città. Due persone a piedi l'hanno avvicinato e gli hanno sparato uccidendolo sul colpo. Ferito nell'agguato anche un 19enne che era con lui, Ciro Colonna, inutile la corsa in ospedale, dove il giovane è morto poco dopo il ricovero. Per gli inquirenti non c'è nessun dubbio che si sia trattato di un agguato di chiara matrice camorristica e che l'obiettivo dei killer fosse proprio Cepparulo, fermato lo scorso mese di aprile per un progetto di omicidio di Pasquale Sibillo, leader di un clan rivale attivo nel popoloso rione della sanità. Sul posto, subito dopo l'agguato, si sono verificati attimi di tensione con i familiari della vittima, autori di un'aggressione ai danni di un operatore tv.